Gaia De Martino e Mida non stanno più insieme. Lui ha addirittura iniziato a flirtare con la sostituta di lei, Aurora, e ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, la ballerina ha mantenuto il punto. Ovviamente non ne ha parlato male, anzi, anche lui è stato importante in questo percorso di crescita, rimane una persona importante, ma sul loro rapporto dopo amici, è rimasta sul chi vivrà vedrà. L'amore, anche lui è stato importante in questo percorso di crescita. Mi ha aiutato tanto, rimane una persona molto importante per me, poi si vedrà fuori. Siamo molto diversi, a me piace sempre pensare positivo, e continuerò a farlo. Comunque è difficile viversi dentro a una bolla. Magari fuori sarà diverso. Sicuramente io gli voglio bene, vedremo fuori, Gaia De Martino, ha poi parlato di amici. Quello di amici è stato un percorso pieno di emozioni, così lo posso definire. Un'esperienza molto importante, non riesco a non emozionarmi. Io seguivo amici da sempre, con mia madre sul divano, da quando ero una bambina. Lei è una grande fan. Questo era il quarto anno che ci provavo, infatti ancora non riesco a realizzare. Ci sono stati dei momenti molto forti che mi hanno fatto andare avanti nonostante questo infortunio. Una crescita importante, sono cambiata tanto grazie ad amici. E anche alla luce di come sono andati i fatti, mi riferisco all'infortunio e alla sostituzione in corsa, Gaia non cambierebbe nulla del suo percorso.